Finisce in manette l'ex capogruppo PDL della Regione Lazio, Franco Fiorito, a far scattare gli arresti l'accusa di peculato per l'appropriazione di circa 1.300.000 euro, ma a convincere ulteriormente i magistrati il rischio di fuga, la reiterazione del reato e l'inquinamento delle prove. Ad eseguire l'arresto sono stati i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che in queste ultime settimane si erano concentrati sullo studio dei conti del PDL. Le fiamme gialle stanno anche eseguendo una serie di perquisizioni nelle abitazioni dell'ex capogruppo del PDL alla Pisana. Ieri sera si era mossa anche la procura di Viterbo, che aveva scritto Fiorito nel registro degli indagati per il reato di calugna e di falso, insieme anche ai componenti del coordinamento regionale del PDL del Lazio, sempre nell'ambito dell'indagine sulle fatture gonfiato o false. La notizia dell'arresto ha colto di sorpresa Fiorito, che si è detto molto dispiaciuto quando è stato prelevato questa mattina dalla sua casa ai Parioli. Intanto il legale dell'ex capogruppo PDLino, Carlo Taormina, annuncia che farà ricorso contro la decisione del GIP perché l'ipotesi di peculato non è pertinente, mentre denuncia la pressione dell'opinione pubblica per il dibattito che ne è nato. Taormina si augura che quanto avvenuto rappresenti una svolta e che quindi scatti l'arresto anche per gli altri 70 consiglieri della regione Lazio. Nel frattempo aumentò il pressing delle forze politiche affinché nel Lazio si voti il prima possibile, come ha più volte ribadito il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri.